Ponte Sasso, Rio Crinaccio, punto di disastrose esondazioni in passato e per questo fonte di preoccupazioni e notti insonni di tanti residenti e operatori turistici. A partire da domani ora questo luogo vedrà la realizzazione di un'opera pubblica che potrà finalmente scongiurare ciò che in passato si è verificato. Il lavoro consente una uscita meno veloce dell'acqua e quindi evita in qualche modo l'esondazione. Il lavoro non sarà soltanto questo, ci sarà anche un nuovo ponticello che lo faremo largo 3 metri e questo sarà utile anche per una prossima pista ciclabile che vorremmo realizzare qui nella zona per rendere ancora più bella, più attraente sia per i residenti ma anche per i turisti. Ciò che in passato ha creato danni alle spiagge limitrofe è stata la violenza con cui le acque si sono riversate in mare aprendo un ampio delta e mangiando metri e metri di arenile fino a cancellare intere spiagge. Per cui metteremo dei massi in maniera tale da contenere l'arginare l'acqua ma soprattutto da proteggere il fondale in maniera tale che sia più efficace l'uscita e appunto si eviti questo effetto delta lungo la spiaggia. La stagione balneare entrante quindi vedrà finalmente una nuova morfologia di questo tratto di territorio con una sicurezza maggiore per operatori turistici, quelli che vanno in spiaggia e anche i residenti. Lavori ultimati quindi entro l'estate.